Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi vi faccio un video dove vi voglio portare i 5 consigli che secondo me sono abbastanza essenziali per migliorare o comunque per riuscire a essere più vincenti giocando diciamo le schedine, quindi le scommesse sportive. Ovviamente questi sono 5 consigli che valgano, diciamo, sono 5 consigli universali, ecco, che valgano per qualsiasi occasione, non è che magari per un'occasione non valgano per una, sì, valgano per tutte le occasioni e questi 5 consigli sono, diciamo, 5 suggerimenti che ovviamente non vi fanno di sicuro vincere una schedina, però comunque vi possono aumentare le probabilità di vittoria. Allora, il primo consiglio che vi posso dare di sicuro, mi sono scritto una lista perché non me li ricordavo nemmeno io, cioè non li potevo dire così a voce però non me ne sarei mai ricordati 5. Allora, il primo consiglio che vi posso dare che è abbastanza essenziale è giocare sempre campionati e squadre che si conoscano perché magari uno va a vedere le quote magari di un altro campionato, il campionato, che ne so, giapponese, che io non conosco per esempio, vede che magari c'è una squadra in casa contro una fuori casa che magari la vittoria l'1 netto, per esempio, l'1 secco, dato, che ne so, 1 e 10 e la gioca di sicuro. Ovviamente hai abbastanza probabilità di vincere perché la quota è bassa, però magari non puoi sapere se quella squadra in quel momento è in crisi oppure quell'altra che magari arriva da fuori casa in un momento di crescita. Quindi giocare sempre squadre e campionati conosciuti in modo da sapere preventivamente, prima di andare a giocare una scommessa, insomma, sapere se ne vale la pena oppure quella partita è meglio evitarla perché ci puoi avere più rischio. Il secondo consiglio vi posso dare di sicuro è giocare spesso le favorite di tutti i campionati, cioè nel senso, come me lo posso dire, questo non è più un consiglio, però è abbastanza basilare, però comunque è sempre un consiglio da dare. Ovviamente giocate abbastanza le squadre che di solito sono più vincenti e che magari sono in un momento di forma migliore, e quindi per esempio che vi so dire, per esempio per la Serie A in questo momento giocatevi la vittoria del Napoli, quella della Roma, della Juventus, ovviamente dipende chi hanno contro. Ma se per esempio, non ne so, mi vedo un Napoli-Benevento in casa al San Paolo, ovviamente mi viene logico di giocare uno e magari anche uno più over, perché magari il Napoli potrebbe metterne dentro anche più di due o tre, quindi di due o tre gola nel senso. Quindi comunque, diciamo, questo è il secondo consiglio che vi posso dare, di giocare vari campionati, scusa, no, scusate, di giocare le favorite e quindi comunque di non andare a cercare troppo le squadrucce, ecco, che ne so, per esempio Messeria Crotone oppure Spal, per esempio, per farvi un esempio. Il terzo consiglio che vi posso dare è giocare vari campionati, non giocare mai lo stesso campionato tutte le squadre. Per esempio, se in una giornata di Serie A ci sono tutte le squadre, te ovviamente le conosci, ok, però di sicuro ci saranno sempre con le partite un po' ostiche che non sai mai come possano andare a finire. Quindi il mio consiglio è di giocare vari campionati che ovviamente si conoscano, quindi io per esempio mi gioco insieme alla Serie A, anche la Premier, la Bundesliga, la Liga, la Liga Spagnola, la Ligan, ma mi gioco anche campionati come per esempio la Liga Belga, la Liga Russa, perché li seguo comunque, e quindi so come sta andando la classifica, come stanno andando i cannonieri, insomma, e sempre rimanendo informato in modo da sapere preventivamente quali partite giocare, quindi per esempio giocarne due o tre con cui sei abbastanza sicuro da un campionato, due o tre da un altro, capito? Quindi mai fare, che ne so, le dieci partite tutte di un campionato, ma giocarne un pochino, di cui ovviamente sei sicuro, da ogni campionato, prenderne un pochino da ogni campionato e farti così, diciamo, la tua schedina di 15, 16, 17 partite, è abbastanza che ti sia abbastanza sicuro, così almeno invece di giocarti tutto il campionato, che di alcune partite l'hai veramente tirata lì per finire, diciamo, tutte le partite, almeno sei abbastanza sicuro di vincerla. Allora, il quarto consiglio che vi posso dare di sicuro è giocare, che io lo faccio molto spesso, è giocare i doppi risultati, perché i doppi risultati aiutano parecchio, per esempio giocare l'1-2, oppure l'1-X, oppure l'X-2, quindi comunque, diciamo, è un aiuto veramente grande, perché comunque, diciamo che una partita può finire con tre risultati diversi, l'1, quindi la vittoria della squadra di casa, l'X, quindi il pareggio tra le due squadre, oppure il 2, la vittoria della squadra fuori casa. Diciamo, giocando due risultati su tre, hai ovviamente il 66% di possibilità di azzeccarlo in matematica, però comunque vorrebbe dire tante possibilità in più di azzeccarli, diciamo, il risultato finale della partita. Quindi, ovviamente, questo era un consiglio abbastanza basilare, però comunque aiuta anche questo. Il quinto e ultimo consiglio che vi posso dare, ovviamente, è di non fare come me, come ho fatto l'ultimo video, perché tanto è impossibile, non fare mai, ovvero non fare mai schedine troppo lunghe. Anche se magari la cifra finale vi può allettare, come per esempio mille euro, duemila euro, non fatele mai troppo lunghe, perché tanto c'è sempre l'inconveniente. Magari vi va di culo, a me per esempio sulle schedine lunghe non mi è mai andata di culo. I grossi, le grosse cifre di denaro non ho mai vinte, perché comunque, ovviamente se fosse così facile, cioè, ce l'avrebbero tutti i soldi, no? Però, a me non mi è mai andata di culo, a molti va di culo, a me per esempio non mi è mai andata di culo. Però, per statistica, diciamo, è meglio giocare delle schedine con 5-6 partite, 7-8, diciamo 10 massimo, perché poi cominciano a diventare troppo lunghe. Se tu ti vai a giocare una schedina con più di 20 partite, è molto difficile e tu le possa azzeccare tutte, però, ma che vada, insomma, tu ti porti a casa una bella scena, una bella somma. E niente ragazzi, questo era il video di oggi. Spero di esservi stato d'aiuto, sono 5 consigli basilari, però comunque volevo magari aiutare chi magari è un po' in nome esperto o magari poteva avere delle difficoltà e magari con questo video ho fatto, diciamo, qualche chiarimento. In, come si dice, a breve, vi porterò magari un altro video sempre sulle scommesse sportive, però magari vedendo invece un pochino più in dettaglio quale magari squadre giocare al momento e quale non giocare al momento. Se vi può piacere, magari fatemelo sapere. E niente ragazzi, il video di oggi finisce qui. Ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto o un non mi piace se non vi è piaciuto. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!